ancora una volta una discarica a cielo aperto qui siamo nell'ex aeroporto questo è il piazzale di rullaggio degli aeroplani ora è un altro tipo di piazzale un piazzale trasformato in discarica c'è di tutto come vi faremo vedere fra poco con le immagini ma veramente di tutto compresa anche una poltrona è una lavatrice magari potete comodamente sedervi e aspettare che il ciclo del bucato finisca comodamente guardate qui e si trova veramente di tutto compreso anche un vecchio televisore a tubo catodico rotto e in mille pezzi quindi anche con problemi di rifiuti particolari e poi più avanti camminando si incontra veramente di tutto vecchi vestiti addirittura un materasso carcasse di computer materiale elettrico anche materiale di scarto edile come vedete insomma ci sono delle cassette elettriche polistirolo insomma veramente materiale di ogni tipo che andrebbe smaltito diversamente e questo naturalmente un cestello di una lavatrice ci sono anche segni di roghi poco più in là cumuli di spazzatura generica ricordiamo a tutti quanti come abbiamo fatto anche altre volte che la fatica che fate per portarli qui questi questi rifiuti particolari è una fatica inutile perché a vostra disposizione a tutti i cittadini c'è un numero da chiamare un numero a disposizione messo a disposizione dall'aset per prendere i rifiuti particolari e ingombranti ve li vengono a prendere a casa basta metterli fuori dalla porta concordare il giorno e l'ora e tutta questa fatica è una fatica inutile perché ve li vengono a prendere a casa